Come e quando hai deciso di diventare un musicista o un performante? Mi sapevo da un'ora di tre anni che sarei un musicista. Da un'ora di tre anni? Da un'ora di tre anni, mi sapevo che sarei un musicista. Tutti i testi, durante la scuola, mi sapevo che sarei un musicista. Quando ero 11 anni, mi sapevo che sarei un rapper. Da un'ora di tre anni, mi sapevo che sarei un rapper. Mi ricordo solo di essere in Kentucky, e che sia il DJ, sia il rapper, con i cassetti, con Fresh Prince e Jazzy Jeff in fronte. E guardare il cover e pensando, chi vuole essere, un rapper o un DJ? Il rapper è molto bello, perché è un ragazzo in fronte, ma il DJ è scoperto, e si tratta di sentire. Quando ero 5 anni, quando ero 5 anni, uno dei primi giorni, mi ha detto che vuole essere in mia band. tu sei il guitarista, tu sei il drummer. No, io sono il guitarista, quindi penso che 5 anni. Grazie mille, credo che sei davvero bello, questo è stato davvero incredibile, per vero? La Romania è stata una delle migliori show che abbiamo avuto. Abbiamo venuto qui ogni anno, per anni e anni, ogni anno, molto bello. Abbiamo alcune delle migliori persone, le migliori festivali. e le migliori donne. E le migliori donne, non le migliori le parole. Ci sono delle migliori donne, in Romania. ti senti la vibra? Massivamente, sì. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.